L'ottava conclusiva del convegno, il premio Spartacone, si chiude con un miglio per anziani, formula d'invito, 10 al via, Omar Capar, Nino De Gloria, Milton Dante, Marina di Pisa, Oro, Masca, Luna, Dasolo, Oro, Druin, Baba, in seconda fila, Olivino, Nelson, Dei Greppi, Monique, Rivarco. A parte piano Nino De Gloria, la macchina stacca, molto veloce Marina di Pisa, all'esterno di Marina Oro, Masca, lungo la corda è veloce Omar Capar, poi allo steccato anche Milton Dante, primi 200 metri coperti in 14,3, Marina di Pisa al comando, Oro, Masca che va a chiedere strada, poi Omar Capar davanti a Milton Dante, ancora Luna, Dasolo, poi Monique, Rivarco, Oro, Druin, Baba, il passaggio di fronte alle tribune, il gruppo è chiuso da Olivino, Nino De Gloria all'esterno e poi alla corda Nelson De Geppi. 600 iniziali in 44 e 2, Oro, Masca con allargo Marina di Pisa, poi Omar Capar, allargo del quale è Milton Dante. Marina che progressivamente sopra avanza Oro, Masca, terza posizione alla corda per Omar Capar, all'esterno avanza Milton Dante, tanto si va verso il completamento del primo chilometro che Marina di Pisa passa sul piede dell'1,16 e frazioni. All'esterno sempre Milton, terza ruota per Monique Rivarco, poi lungo la corda Oro, Masca davanti a Omar Capar, in terza avanza anche Oro, Druin, Baba, intanto Monique Rivarco si sta liberando di Marina di Pisa, e affronta al comando il termine della piegata conclusiva su Marina, interviene Oro, Druin, Baba, la retta di arrivo con Monique in vantaggio, poi Marina, Oro, Masca, centro pista avanza Oro, Druin, Baba, Monique in vantaggio, Oro, Druin, Baba che insegue, interviene anche Olivino sul palo, Monique, Oro, Druin, Olivino. E per il quarto, forse Oro, Masca, pizzica, Marina di Pisa. La vittoria per Monique Rivarco, in stato di forma davvero strepitoso nel periodo, che vince nettamente su Oro, Druin, Baba e Olivino, eccole le battute conclusive, io ho 2 e 1 sul cronometro, la media è intorno all'1,15 e mezzo, Monique Rivarco, Roberto Andrighetti, Lucio, Colletti e il signor Giuseppe De Rosa. Raddoppio per il team Colletti e Andrighetti dopo la vittoria in apertura di Ritz, B, ecco il secondo di Oro, Druin, Baba, il terzo per Olivino, e poi al quarto, Oro, Masca, che regola Marina di Pisa. Monique Rivarco al totalizzatore paga 3,17 e con questo è tutto per oggi, dall'ippodromo del Visagno di Firenze, da Via Riverti a tutti, la più cordiale, buonasera. Appuntamento con le corse a Firenze per domenica prossima, 3 febbraio, con il premio Luigi Bizeti.